Oggi parliamo di rifiuti del loro riciclo. La normativa europea 98-2008 prevede il principio di prossimità. Andiamo a sentire cosa ci raccontano su questo principio di prossimità e se realmente nella regione Emilia-Romagna è attuato. Andiamo. Tutto è partito da quello che deve essere, secondo noi, il ruolo dell'imprenditore in questi tempi, in questa società. Quindi abbiamo, in qualche modo, acquistato un'area di smessa, un'area industriale di smessa, di grandi dimensioni, 42.000 m2. Abbiamo recuperato filologicamente tutti i capannoni che erano all'interno, appunto perché vogliamo mantenere la memoria storica. Abbiamo acquistato la Villa Rizzoli e vorremmo trasformarla in area didattica per insegnare ai bambini come correttamente devono essere smaltiti questi materiali. doveva finire la lavatrice della mamma, il rasoio del papà, una volta che sono dismessi e cosa si può ricavare a livello di materie prime. Abbiamo un impegno nel sociale gestendo operativamente in prima persona due laboratori, uno alle carceri di Bologna e uno alle carceri di Ferrara. Questo appunto ha avuto un brand unico al mondo che vuole racchiudere un po' tutti questi temi legati alla sostenibilità ambientale che in questo posto deve essere declinata in tutte le sue possibili accezioni possibili, che si chiama Borgo Ecologico. C'è una normativa europea che prevede, come primo comma chiamiamo così, il recupero del rifiuto in prossimità, cioè fare di tutto dove è possibile recuperare il rifiuto a due passi da casa. Sì, la direttiva 98-2008 della Comunità Europea prescrive nelle sue parti generali che ove è possibile e a parità di condizioni economiche i rifiuti possano e debbano essere gestiti in termini di prossimità, cioè devono essere lavorati e gestiti nel luogo più vicino possibile dove vengono prodotti. Ecco, qui siamo alle porte di Bologna, in Emilia Romagna. La quantità di rifiuti che voi trattate? L'anno scorso noi abbiamo trattato circa 7.000 tonnellate di rifiuti elettrici elettronici, quindi i cosiddetti RAI rifiuti elettrici elettronici dismessi, quindi parliamo di grandi bianchi, lavatrici, ma anche televisori, piccoli elettronomestici, lampade fluorescenti, eccetera, eccetera, in piena sicurezza e in eccellenza a livello mondiale. E rispetto al venduto, che è un parametro abbastanza attendibile, noi in questo momento gestiamo circa il 5%, dal 5 al 10% del materiale, del rifiuto elettrico elettronico che viene dismesso in Emilia Romagna tutti gli anni. Quindi in Emilia Romagna abbiamo tonnellate e tonnellate di rifiuti elettronici che vengono dismessi, ma qui da voi, che siete l'eccellenza mondiale, arriva soltanto il 10%, come se lo spiega? Ma diciamo che la gestione è abbastanza complessa e le risposte possono essere molteplici. Diciamo che in questo momento chi gestisce le politiche di rifiuto, non solo in Emilia Romagna, ma anche in Italia in generale, tiene in scarsa considerazione il fatto che possono crescere degli impianti di eccellenza sul territorio e, come dice appunto la normativa europea, che questi impianti di eccellenza possano non solo operare nel rispetto delle normative ambientali, ma anche dare soprattutto lavoro a dei territori che in questo momento ne hanno particolarmente bisogno. Quindi possiamo dire che chi gestisce i rifiuti, cioè gli enti locali e chiaramente le multi-utility, se ci fosse una normativa che prevede da domani ricicliamo in luogo di prossimità una percentuale fissa che resti in Regione, voi potreste assumere quante persone? Diciamo che ponendoci immediatamente in riferimento ai dati oggettivi, se noi passassimo per esempio dal 5% al 15%, il che sarebbe comunque un dato estremamente riduttivo rispetto non solo alle nostre potenzialità ma all'eccellenza mondiale con i quali trattiamo questi rifiuti, noi potremmo assumere da domani dalle 50 alle 100 persone. E dove finiscono i rifiuti che invece vengono smaltiti extra Regione? Beh, come dicevo i rifiuti elettrici elettronici una volta che vengono dismessi vengono gestiti quegli urbani chiaramente da dei consorzi, dei consorzi che sono la diretta emanazione dei produttori che per legge sono deputati al retiro, al recupero e all'indirizzare appunto questi rifiuti ai vari impianti. Purtroppo dal mio punto di vista, e parlo come imprenditore, la gestione sia della logistica e quindi del trasporto di questi rifiuti dalle varie stazioni ecologiche o dai vari centri commerciali agli impianti veri e propri è una gestione secondo me fortemente carente. I rifiuti devono essere prodotti e smaltiti in termini di chilometri zero nel punto più vicino possibile dove vengono prodotti. Ecco, ricordiamo e chiudiamo e ringraziamo il dottor Tedeschi dicendo che le multi utility sono sempre a maggioranza pubblica, cioè di noi cittadini e chiaramente sono i comuni, gli enti locali, la provincia e le regioni che dovrebbero emanare leggi per far sì che si dia lavoro in loco e soprattutto si rispettino le normative europee.